amici sportivi amici fanta allenatori buonasera bentrovati dal vostro veterano del fanta calcio nuovo video in preparazione all'asta del fanta calcio 21 22 un video mi ha visto importantissimo che non ha fatto un momento nessuno abbiamo già fatto l'asta del fanta calcio quindi sono informazioni utili indispensabili soprattutto per chi farà l'asta in questi giorni perché ci sono tanti amici che le faranno tanti impegni di vacanze di lavoro eccetera quindi tanti e le fanta allenatori si stanno adoperando per fare l'asta in questi giorni ho notizie di alcune aste che si terranno tra l'8 e 9 di agosto alcune il 12 e 13 di agosto alcune il 14 quindi ampiamente prima dell'inizio della prima giornata di campionato che sarà il 22 agosto e quindi notizie veramente molto molto importanti cosa abbiamo fatto in questo video di fatto in questo video in queste serate perché di fatto la preparazione è stata fatta in maniera maniacale abbiamo raggruppato dal gruppo di whatsapp il gruppo riservato del fanta calcio 8 8 fanta allenatori che si sono hanno fatto una vera e propria asta 8 al fanta allenatori modificatore difesa a presenza di 500 crediti siamo riusciti a fare nelle scorse sere portieri e difensori credo stasera stanotte ci saranno i centrocampisti attaccanti quindi questa prima parte del video sarà dedicata in particolar modo alla porta e alla difesa in attesa di capire quali saranno gli sviluppi su romelo lucapo che pare essere sempre più vicino al celsi anzi quasi quasi certa la sua partenza quindi anche per il fanta calcio sono notizie da prendere grandi considerazioni quindi gli amici hanno fatto già l'asta siamo partiti dalla porta il più pagato è stato scesne quota 53 quindi più o meno un 10 per cento e a completare appunto il pacchetto con perine e la sorpresa un po vicario con un credito portiere che è passato all'empoli quindi pacchetto al 10 per cento circa per ale andrea ha fatto invece una scelta diversa ha fatto consiglia 8 rena 10 e stracoscia come potenziale sorpresa ha un credito nino ha fatto lui patricio 32 secondo me è una sorpresa interessante per questo campionato il prezzo è stato abbastanza equo fuzzato 1 e cranio 10 vi ripeto il totale dei crediti sono 500 asta 8 con modificatore di difesa abbiamo fatto una vera e propria asta simulata una simulazione che secondo me è indispensabile per il fanta calcio gli amici si sono messi al lavoro per farlo insieme quindi ci sarà quella 8 ponente ci sarà anche quella dici vedremo se riusciamo se riusciamo a fare quella dici ma sicuramente sono notizie molto interessanti di cui tener conto danilo ha fatto andanovic quota 41 secondo più pagato dopo appunto scesne e radu a 1 come a completare il reparto e poi siriguo del genoa quota 1 ottimo colpo per danilo in questo caso david ha scelto una strategia diversa fatto in napoli ha risparmiato un po perché meret è stato quotato solamente 30 o spina 1 e poi montipò a 1 portiere del verona giro ha fatto una porta a low cost dragosca in porta in accoperto con audiero della sandoria e dragosca è andato a 10 e audiero a 7 e silvezza 7 quindi in questo caso si conferma che in 8 anche con modificatore difesa portieri semi top il prezzo va via un prezzo abbastanza basso in totale ha fatto una spesa di 24 che mi spesa mi sembra una spesa veramente molto interessante marco ha fatto musso pagato 33 una quota importante per i portieri dell'atalanta milinkovic sabic quota 5 e skorupski solamente uno quindi di fatto i portieri di squadre di bassa classifica o media classifica vanno via un prezzo veramente basso ricky invece ha preso ha fatto magnan 40 tatalusano 1 e plizzari 1 devo dire un pacchetto importante quindi prima ho pagato in porta è stato scelto in quota 53 su 500 ripeto è una simulazione ma già all'alba del 3 agosto abbiamo fatto l'asta del fantacarcio ve la vado a esporre se ci saranno 100 campisti attaccanti e poi avremo un quadro completo di quello che può essere il pacchetto danilo ha preso andanovic come seconda opzione più pagata andanovic 41 e poi ricky magnan quota 40 il terzo più pagato quindi la differenza di 13 crediti tra cesni e magnan per quanto riguarda poi la difesa anche qua ci sono stati dei super colpi sicuramente molto molto interessanti vi parlo di teo arnandez che è andato via 49 gol si è andato via 58 sono stati più pagati a scelta come dire abbastanza tosta sul modificatore difesa 25 mancini a 30 quindi pagato tantissimo mancini arnandez 49 e calabria 16 a completare il pacchetto difensivo dei low cost interessanti parisi esterno sinistro dell'empo di quota 1 it so quota 3 colli 1 e o laina quota 1 devo dire che it so pagato poco veramente potrebbe essere un bel colpo per i vostri fantacarci andrea ha fatto una difesa veramente low cost alexandro solamente 15 simone romagnoli dell'empo di quota 1 sabelli del genoa quota 5 german pezzella della fiorentina quota 5 ansaldi solamente uno andato via a prezzo di saldo isai il cocco di sari quota 2 lico gianni sa 1 e buongiorno 1 andrea ha fatto una porta una difesa veramente low cost per puntare credo poi tutto su centrocampo e attacco sono scelte che 8 possono dare loro loro giusta soddisfazione nino ha preso a cerbi a 20 un buon prezzo nel viso così come tomori 23 e anche devry 37 a completare il pacchetto kier quota 20 quindi anche quando difesa da modificatore difesa pagati forse un po troppo gli altri quattro modulo quota 3 abbastanza alta così come muldur quota 5 chiellini 5 anche qua direi altina e bi raghi 3 quindi nino molto bene per i miei quattro slot sugli altri quattro sono avrebbe le prese ma magari a prezzo di saldo danilo ha fatto razzeri quota 18 veramente interessante razzeri credo che possa essere un bel colpo per le vostre difese con con sari può spingere molto anche se gioca nel pacchetto dei 4 dietro ma il prezzo è veramente bassissimo spinazzola quota 3 anche qua in questo caso sfruttiamo la coppia con vigna perché spinazzola quota 3 veramente troppo troppo poco così come a tebor quota 6 mi sembrano prezzi un po bassi dal mian 3 sono bei le copie sorpresa buonucci 11 crescito a 12 caso dopo a 12 e suomaro del bologna quota solamente 21 danilo ha fatto come sempre un ottimo lavoro dei colpi low cost e dei colpi di semi top veramente importante mi piace molto come ha lavorato danilo davide ha preso delitto ottimo colpo 21 così come manolassa 13 demirala se attenzione perché potrebbe passare all'atalanta bremer quota 6 anche qua un prezzo basso anche 8 può essere veramente un semi top importante augello 1 altro colpo veramente di grande livello smalling a 1 che può abbastanza regalato così come maiere a 10 e pallomino 1 anche davide ha fatto veramente un ottimo lavoro ma così come tutti i ragazzi che hanno partecipato all'asta hanno fatto veramente un ottimo ottimo lavoro a sta simulazione chiudiamo con gli ultimi tre gero ha preso singolo a 13 pagato il giusto perché comunque singolo può fare veramente un ottimo lavoro io gli uscì da quota sette culibali a 20 quadrato 30 mi sembrano dei colpi veramente interessanti e buoni per quanto riguarda il fanta forse un po troppo toloi 11 invece larsena 1 simone bastoni a 2 carbone 1 sono dei colpi veramente di grande grande livello per gero che ha fatto veramente un ottimo lavoro chiudiamo con le ultime due squadre marco gossens come dicevo 58 più pagato diciamo oltre il 10 per cento è giusto secondo me quel prezzo giusto di marco quota 16 veramente importante spediamo una parola in più su gossens e si si dibatte molto sul prezzo da pagare per gossens io credo che pagato il 10 per cento sia un prezzo giusto 11 va bene ancora 12 limite massimo oltre 12 per cento sinceramente non andrei per gossi se come questo caso sta all'intorno del 10 per cento mi sembra un prezzo veramente giusto ed equilibrato di marco 16 pagato un po ma li merita tutti l'esterno dell'inter zappa quota 3 una bella scommessa morire invece pagato tanto 10 ma giusto perché fa veramente un ottimo lavoro gioca a centrocampo e dell'istato difensore quota 10 anche qua ottimo da modificatore difesa danilo 5 può essere un'ottima sorpresa danilo 5 può essere un po sottovalutato ma quadrato si gioca più avanti danilo può dire su chiudiamo con gins city 6 ottimo colpo così come tomiasu 5 attenzione perché il giapponese e chiacchierato al tottenham ottimo lavoro anche per marco chiudiamo con ricchi bastoni 22 ottimo lavoro così come di lorenzo 15 un bellissimo colpo di lorenzo mi avviso di lorenzo verrà parecchio sottovalutato come è venuto in quest'asta e la quota comunque è sicuramente la sua portata milenco invece 12 un bel affare così come buoni fazzi 1 ferrari 4 anche qua ottimi colpi farone 10 erlich 1 e beresischi 1 sono veramente ottimi colpi anche per ricchi quindi di fatto anche qua con modificatore difesa anche se è noto si possono fare degli ottimi colpi vi ripeto che questa è una simulazione d'asta fatta dagli amici che si sono messi in gioco hanno fatto delle se hanno spiegato delle serate per fare queste simulazioni possono essere utili a tutti stasera faranno stanotte faranno centrocampisti attaccanti è una simulazione importante perché a 8 con modificatore difesa può dire sicuramente come si comporteranno il fantanato rivisto che è un campione abbastanza rappresentativo e sono veramente dei fantacarcisti molto seri perché fanno fantacarcio tanti anni e sono e sono nel gruppo riservato di whatsapp del veterano seguitemi sul canale per altri video di questo tipo nei prossimi giorni altri video mi ricordo quattro cose fondamentali fondamentali abbonatevi se volete per poter fare crescere sempre di più canale youtube del veterano di fantacarcio iscrivetevi fate iscrivere tanti amici perché solo in questo modo si può crescere e scaricate l'app di magic gold di fatto una bibbia per i fantanatori e soprattutto acquistate la guida strategica che sarà fondamentale per il vostro fantacarcio qui sotto trovate tutte le indicazioni a presto buona giornata a tutti a domani buonanotte a tutti perché il video verrà caricato a brevissimo e poi ci sentiamo presto per il resto della simulazione d'asta a presto ciao ragazzi